buongiorno buongiorno a tutti voi anche oggi è una splendida giornata e allora cari amici che seguite queste pillole di benessere nei giorni del coronavirus questa è la sesta puntata e oggi non so dirvi se ce ne saranno altre perché ovviamente ci saranno modifiche nelle giornate di molti e sicuramente anche nella mia giornata vedremo passo passo per cui non so proprio dirvi se questa è l'ultima puntata se ce ne sarà almeno un'altra o forse di più lo scopriremo strada facendo sicuramente siamo alla fine siamo arrivati al giorno anche molti aspettavano e che addirittura alcuni addirittura agognavano il giorno in cui alcune cose cambiano nel giorno in cui alcune persone possono tornare alla loro attività in cui alcune persone possono incontrare i loro cari dai quali sono stati a lungo separati anche se questi incontri come sappiamo avranno molte limitazioni però non voglio utilizzare tempo con raccomandazioni di prudenza immagino che sia chiaro per tutti che questo primo giorno di apertura progressiva non è assolutamente indicativo di una fine di un cessato pericolo della scomparsa di questa invisibile misteriosa minaccia quindi il richiamo è al nostro senso di responsabilità come cittadini e come familiari e amici di altri cittadini a questo proposito ricordo che un guru indiano che il capo di un importante scuola di yoga nel sud dell'india che era è ancora lì nel sud dell'india e che è anche la guida una figura di riferimento spirituale per 27 villaggi che popolano un'area rurale che si estende intorno alla sua scuola di yoga questo guru circa due mesi fa quando stavano per essere raggiunti anche loro dalla pandemia distruendo i suoi discepoli sul comportamento da tenere per se stessi e per i contadini e le loro famiglie che ignari dovevano venire a loro volta istruiti alle linee guida da da tenere per la sicurezza sanitaria per la sicurezza socio sanitaria questo guru ha fatto una distinzione interessante tra esseri umani e creature umane chiedendo a tutti i suoi di essere responsabili di essere capaci di sopportare i disagi della quarantena del distanziamento fisico delle misure scomode scomode ma necessarie per la sicurezza di tutti lui diceva che voltare le spalle a quelle misure cioè comportarsi in maniera leggera disattenta lasciando prevalere i propri naturali naturali istintivi personali bisogni lasciando prevalere questi sulla necessità invece di imporre a se stessi il rigore nel rispetto di regole difficili da seguire ma indispensabili per proteggere la loro comunità sarebbe stato un comportamento da creature umane ecco lui chiedeva loro di esprimersi in questa situazione così difficile non come creature umane ma come esseri umani chiedeva loro di essere responsabili maturi molto seri anche se non chiedeva loro la tristezza la depressione il chiudersi anzi diceva rimanete pure giocosi ma con serietà capaci di accogliere di accogliere e convivere con le frustrazioni che avrebbero inevitabilmente vissuto per trasformarle queste frustrazioni in atti di coraggio di resistenza che li rendessero fieri di se stessi per ciò che di buono loro facevano agli altri comportandosi come esseri umani invece che come creature umane ecco lì il tema centrale era quello degli altri era il tema degli altri cioè la negazione di sé per l'altro e direi che l'altro l'altro da me è anche il tema centrale della pillola di oggi io voi tutti noi abbiamo necessità dell'altro per vivere la nostra vita noi tutti viviamo la nostra vita è fatta di alterità dovuto al fatto che tutti quanti inevitabilmente interpretiamo la nostra vita come degli io che stanno al centro del loro mondo quale centro del di un mondo che è popolato da altre persone cioè la nostra vita è fatta massimamente potremmo dire unicamente di relazioni noi siamo vivi solo essendo in relazione in relazione con un mondo ma un mondo popolato appunto di persone popolato di altri altri con i quali intessiamo tutto l'insieme delle relazioni che costituiscono la trama della nostra esistenza ed è per questo che unanimemente ogni scuola di pensiero filosofica psicologica definisce l'uomo come un uomo relazionale non sto qui a descrivervi che cosa succede quando le relazioni vengono completamente perdute quando una persona rimane sola e si isola completamente l'uomo è sicuramente un essere relazionale l'essere relazionale di ciascuno di noi in questi mesi qua è stato messo a durissima prova molti tra di noi volendo utilizzare la metafora del maestro indiano rischia adesso di comportarsi come una creatura umana piuttosto che come un essere umano il che se accadesse è assolutamente legittimo data la situazione di privazione relazionale che abbiamo vissuto e anche di notevolissima stanchezza di tutta la popolazione per la durata la lunghezza di questa quarantena ma non c'è stata solo la privazione relazionale per alcune sì anche molto importante però c'è stata anche la costrizione relazionale magari immagino in piccole case con tante persone dentro con i figli a casa dalla scuola figli di cui occuparsi di continuo soprattutto quelli più piccoli oppure una convivenza una convivenza con il proprio partner con i propri familiari di un'intensità mai vissuta così a lungo perché una essere proprio chiusi dentro lo stesso spazio per così tanto tempo e molte relazioni in questo periodo hanno mostrato un po il fianco e si può anche ben capire perché in altri casi ci sono stati c'è stata la possibilità di vivere vivere vicino al proprio parte nella famiglia di cimentarsi con una grande reciprocità quasi una seconda luna di miele per alcuni c'è stata una grande sperimentazione della relazione e adesso c'è da tornare verso lì di che dovrebbero essere più familiari ma che forse forse oggi ad alcuni vanno un pochino stretti ecco qui ovviamente ancora cambiamenti ancora tremor di vene e di polsi come si può dire ancora l'attesa di quel che sarà con la grande speranza di misurarsi nel bene oltre che nel nuovo che verrà e a proposito del nostro essere relazionali a proposito delle nostre relazioni che significa per noi vita con altre persone con le persone che popolano la nostra esistenza che talvolta diventano per noi importanti anche se quasi o niente li conosciamo a proposito di questo ho deciso di di proporvi una meditazione da fare insieme su questo tema che è un tema molto articolato molto complesso anche quello che vi propongo è una sorta di purificazione delle nostre relazioni senza entrare nello specifico di relazione per relazione perché la varietà della relazione immensa perché una varietà determinata dalla dall'unicità di ognuno di noi e quindi possiamo ben capire questo però ci sono alcuni aspetti che possono essere ritenuti condivisibili da tutti allora io vi condurrò in un breve percorso questa volta ogni tanto vi lascerò il tempo per sentire meglio dentro di voi quello che provate quindi potrò fare anche un minuto 2 di silenzio per non disturbare il vostro ascolto interiore e quando non sentirete la mia voce sarà solo per questo è un silenzio utile al vostro lavoro in questo momento quindi non pensate che sia che sia improvvisamente scomparsa la connessione quello che faremo insieme adesso è una sorta di purificazione della psiche della mente come si usa dire in psicosintesi una delle scuole a cui appartengo la prima scuola che mi ha formata dal punto di vista psicologico è come un'igienizzazione quella che facciamo ma invece di farla negli ambienti nei quali viviamo la facciamo nell'ambiente del psichico facciamo una igienizzazione dell'ambiente psichico e quindi del nostro intimo la prima cosa che vi chiedo è di chiudere gli occhi perché chiudere gli occhi significa sottrarsi allo stimolo più importante che riempie noi stessi uno stimolo potentissimo gli occhi fanno entrare una quantità di cose colgono movimenti espressioni colori forme tutto quanto e quindi ci portano immediatamente fuori di noi chiudendo gli occhi si entra dentro di noi questo non è per tutti facile non è per tutti facile vuoi perché entrare dentro non è abitudine di tutti e non è facile farlo perché alcuni hanno timore di ciò che potrebbero trovare dentro ma noi non andremo nelle pieghe profonde degli aspetti psichici non faremo niente di tutto questo quindi da questo punto di vista potete tranquillizzarvi l'altro motivo per cui molte persone temono hanno talvolta timore di chiudere gli occhi è il timore di perdere il controllo della situazione ci sono persone che hanno molto bisogno di sentirsi sicuri di quello che accade di quello che succede oggigiorno noi siamo stati invasi da ondate di timori di paure quindi forse questo ci ha resi anche un pochino più fragili da questo punto di vista ci sentiamo un po più vulnerabili esposti a minacce rischi e per cui può darsi che anche la nostra modalità normalmente difensiva di avere più o meno sotto controllo le nostre vite qui diventi un pochino più esasperata poi ci sono persone che hanno proprio bisogno di controllare tutto in maniera molto rigorosa queste persone io posso suggerire invece di chiudere gli occhi di socchiuderli di guardare in un punto socchiudendo gli occhi ma in quella quando hanno scelto dove guardare mantenere quel punto di focalizzazione ma sfocare lo sguardo sfocarlo noi abbiamo questa possibilità guardare in un punto però come se non lo vedessimo questo sfuocare consente di nuovo di tornare a percepire più l'interno che l'esterno e comunque di avere un piccolo grado di contatto con ciò con ciò che sta intorno a noi quindi chiudete gli occhi chi li può chiudere fatelo adesso e focalizzatevi sulle vostre per qualche istante sulle vostre relazioni significativi significative che oppure le relazioni che sono molto presenti in questo momento nella vostra vita e poi quando avete fatto così un volo d'uccello sulle relazioni più importanti ne scegliete una in particolare una cominciamo con una in altre occasioni potrete sceglierne altre quindi non è che perdete qualche cosa scegliendone una ne scegliete una in particolare magari una anche un poco faticosa o che non era faticosa prima di queste ultime settimane poi lo è diventata in alcuni casi alcune relazioni sono diventate proprio difficili non deve essere necessariamente una relazione affettiva non è indispensabile può essere ad esempio quella con un vicino di casa con il quale le cose sono peggiorate oppure che non vanno molto bene da pericchio tempo oppure con qualcuno con cui non riusciamo a intenderci non riusciamo a parlare a trovare un'intesa e ovviamente può essere anche qualcuno a cui invece teniamo con il quale vorremmo rinsaldare la nostra alleanza qualcuno con cui c'è una bella intesa che vogliamo migliorare ancora e preservare per il futuro può essere un partner un figlio un genitore ognuno si senta libero di decidere quale persona metterà al centro della propria meditazione anche perché questo piccolo lavoro che facciamo adesso insieme potrà essere ripetuto più volte scegliendo ogni volta una relazione diversa prendetevi un istante per decidere quale sarà questa persona che nella seconda parte di questa meditazione introdurremo voi introdurrete dentro il vostro lavoro focalizzate il vostro pensiero sulla persona che avete scelto e che assieme a voi forma il nucleo di questa relazione e cercate di evocare dentro di voi un'immagine stabile di questa persona e rimanete in presenza di questa immagine stabile per qualche istante anche pensando un po' a com'è questa relazione adesso quindi entriamo proprio nel lavoro vero e proprio occhi chiusi trovate una vostra posizione comoda meglio se seduti cercando di stare con la schiena eretta ma senza indurre contrazioni nel corpo per mantenere questa posizione non dovete indurire i muscoli del corpo per stare dritti con la schiena provate piuttosto a immaginare di vedere le vostre vertebre allineate allineate perfettamente una sull'altra cercando di immaginare questo le vertebre spontaneamente il vostro corpo comincia a muoversi e troverete la posizione corretta pur rimanendo assolutamente rilassati nel corpo magari ecco rientrate appena appena con il mento verso il petto così che anche quella specie di grande vertebra che è la scatola cranica si allinea con le altre vertebre mentre siete in questa posizione o facendo piccoli movimenti sentite che vi ci accomodate sempre meglio fate caso all'appoggio dei vostri piedi sul pavimento sentite bene il contatto come se fossero radicati nel pavimento e poi sentite anche che il vostro corpo è ben sostenuto dalla sedia o dalla poltrona sulla quale sedete quindi sentite che vi potete fidare di questo appoggio dell'appoggio che sostiene il vostro corpo e in questa posizione cominciate adesso a porre attenzione al vostro respiro non dovete modificarlo ma solo osservarlo ascoltarlo percepirlo così com'è senza intervenire perché il vostro respiro si respira da solo sentite dunque l'aria fresca che entra nelle cavità delle narici scivola nella gola raggiunge i bronchi invade i polmoni li amplia riempiendo gli apici dei polmoni in alto e anche spingendo il diaframma verso il basso i polmoni che si allargano se il respiro è profondo potrete addirittura sentire la spinta dell'aria sulle reni ma non modificate il vostro respiro per percepire questa sensazione se c'è la registrate altrimenti osservate quello che c'è questo movimento dell'aria e poi sentite l'aria uscire facendo il percorso inverso i polmoni che si ritraggono i bronchi, i gola e quindi l'aria che esce dalle vostre narici e fate caso alla diversa qualità dell'aria che esce dal vostro naso la diversa temperatura e anche la diversa umidità quasi uno spessore diverso dell'aria che è transitata dentro al vostro corpo entra fresca e pulita rigenera gli organi cede il suo nutrimento e poi conduce fuori dal corpo le scorie calde e umide rimanete per qualche istante nell'attenzione a questo processo di nutrimento e di pulizia divenite consapevoli osservate l'aria che entra e l'aria che esce entra fresca pulita attraversa il vostro corpo e esce un po' più calda un pochino più densa osservate il vostro respiro in questo momento ecco 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 alla vostra mente di distrarvi dall'osservazione del vostro respiro in questo momento. Ecco, è giunto ora il momento di accogliere in voi un respiro più ampio, più ampio e più consapevole, il respiro del vostro nucleo centrale, dell'essere che ci abita e che ci ospita al tempo stesso. Senza modificare dunque il proprio ritmo naturale del respiro, che è possibile che sia andato rallentando, guardate l'aria che entra ad ogni ispirazione di venire via sempre più luminosa. In questo movimento di entrare e uscire da voi, sempre più luce, vivida e brillante, raggiunge ogni angolo interno del vostro corpo. Particelle scintillanti di luce della vita si fissano dentro di voi, illuminandovi, rendendovi brillanti. E altre particelle scintillanti, libere e in movimento, conducono fuori di voi e si scioglie. Quindi ad ogni espirazione la stanchezza, la sfiducia, la tensione, la tristezza, il peso dei ricordi. come su un nastro trasportatore fatto di luce, ogni disagio, ogni dolore, ogni frustrazione scorrono fuori di voi e si sciolgono nell'atmosfera luminosa che circonda il vostro corpo. Il vostro corpo non è più un limite, un confine tra ciò che sta fuori e ciò che sta dentro, ma è un tutt'uno con la luce che lo circonda. Tutta luce dentro e tutta luce fuori e tutta la stessa luce, la luce della vita che pulsa dentro di voi, in voi, con voi e grazie a voi. Percepite la fragranza luminosa dell'unica luce, sentite il pulsare dell'unica vita. E in questa condizione lasciate che la percezione della persona che avete scelto all'inizio emerga da questa luce. incontratela nella luce. Luce questa persona, luce voi, luce tra voi e tutta la stessa luce al di là di voi stessi. Questo è un incontro oltre voi stessi e per alcuni di voi è un vero incontro di amore nella luce. oltre tutti i vostri pensieri, oltre tutto ciò che è stato fino ad oggi, oltre ogni possibile fisicità. luce nella somnale. luce questa persona che è stata finita da questa luce. Rimanete in presenza di questo incontro, dentro la luce che avvolge questa relazione, la nutre, la illumina, la rende migliore, brillante. E quando voi tornerete dalla luce dentro il vostro corpo, porterete con voi il sentore di questo incontro e questa luce illuminerà per sempre questa vostra relazione, donandovi fiducia, coraggio, capacità di comprendere. Percepite queste qualità adesso, nella luce, in presenza di questa persona e osservate adesso la vostra relazione con questa persona, voi uniti nella luce. Ecco, ecco. Nella consapevolezza che, al di là delle nubi e delle nebbie che talvolta rendono grigi o più bui i nostri giorni, brilla perpetuo il sole caldo della vita, riportiamo la nostra attenzione sul respiro, sull'aria che entra fresca ed esce calda e umida. E poi, a poco a poco, riportate la vostra attenzione sul vostro corpo. Sulla vostra schiena dritta, sulle gambe, sui piedi che poggiano sul pavimento, sul contatto con la sedia sulla quale, sulla quale siete seduti, e infine nella stanza in cui vi trovate. Fate questo con calma. Ognuno, con il suo tempo, rientri in sé. Mantenendo un certo grado di contatto con l'esperienza appena fatta, per concentrarla dentro di sé anche adesso, in questo riappropriarsi del proprio corpo, del proprio tempo, del proprio spazio. e in questo modo continuerà ad operare in voi e sulla relazione che avete scelto per questo lavoro. Ricordate che potrete ripetere questa meditazione ogni volta che volete, scegliendo altre vostre relazioni che in qualche modo vi stanno a cuore. Un caro saluto a tutti voi nel primo giorno di questa fase 2 che scopriremo a strada facendo. A presto, a presto.